Io non sono una grande appassionata di makeup, o meglio, mi trucco tutti i giorni, mi trucco e mi piace essere truccata, è difficile che esca senza il trucco, perché mi sento più a mio agio, mi sento più ordinata, mi sento più curata, quindi anche se non ho tempo, qualcosa di veloce la metto, e a volte dicono che è meglio non truccarsi proprio, ci si trucca bene, benissimo, quindi con il primer, il correttore, il contouring, tutte queste cose qui, o è meglio non truccarsi proprio? Io non sono d'accordo, perché io sono una mamma, ho tre bimbe, ho pochissimo tempo per dedicare a me stessa, però anche solo in 5 minuti mi sforzo di trovarli, e che posso fare in 5 minuti? Metto la crema, ovviamente crema idratante, il correttore, perché se lo sembro un panda la mattina quando mi sveglio, e fondotinta, blush, eyeliner e mascara, e via, mi sento più a mio amico, perché devo rinunciare a questo, non sono per il bianco e il nero, c'è sempre una via di mezzo, e... I'm the middle one.